Sì, ma comunque sì, siamo contenti di essere entrati ai playoff, siamo stati promossi in Serie A, quindi aspetto, mi auguro di farlo il 12 di maniera. Cosa c'è Staro a Sky? Ha detto che si tratta da te una risposta di una proposta che ti avrebbe fatto, di come si tratta? Di una proposta? Ha detto vedremo se dal canto accetterà la nostra proposta. No, non è stato fatto nessuno. Lavorare al fanno. Non può darsi. Se mi verrà fatta, ho sempre detto che sono il primo che spera di rimanere a fare la notte del padua, però è una decisione che in questo momento qua deve prendere la società. E' ancora presto per aspettarci la riconferma? No, se una società vuole farla riconferma, è giusto, basta. Siamo d'accordo. Senza c'è il rischio che qualche giocatore possa avere la pancia piena per il raggiungimento di questo obiettivo? No, perché non abbiamo in rosa giocatori che forse a parte italiana... Cioè che possa sentirsi appagato? No, anzi, è il contrario, un gruppo di giocatori che vede la prospettiva di andare in Serie A come traguardo della vita, quindi da quel punto di vista lì di sicuro non sbaglieremo mai l'approccio. Poi possiamo perdere le partite come oggi perché incontriamo una squadra che la prima mentora invece di essere 0-0 magari ci fa due gol e ci mette in difficoltà. Comunque dicevi giustamente che il Varese è la squadra meglio organizzata in difficoltà e magari forse la più rognosa da affrontare, però il quinto posto in ottica di un'eventuale finale non è... Abbiamo fatto anche quel calcolo là, nel senso adesso che siamo dentro, sì c'è anche la possibilità che se tutto va bene potremmo anche giocare un'eventuale finale, il ritorno di un'eventuale finale in casa con il vantaggio di due risultati, ma c'è prima da passare il Varese che basta è la nostra. Come si preparano questi club? Quattro partite? Speriamo in... Dobbiamo solo recuperare energia dal punto di vista fisico.